Ciao, sono Giulia, sono una commercialista e sul mio canale puoi trovare informazioni e strumenti utili per capire il mondo delle tasse e per gestire meglio la tua attività. Per non perderti nessun contenuto, iscriviti subito al canale e clicca sulla campanella. Nel video di oggi ti spiego quando devi dichiarare i tuoi conti correnti all'estero, come farlo e soprattutto quanto devi pagare. Tutte le persone residenti in Italia devono dichiarare i conti correnti posseduti all'estero. Questa dichiarazione serve ad assolvere due obblighi distinti. Il primo è quello del monitoraggio fiscale, ovvero l'obbligo per tutti i residenti in Italia di comunicare al fisco tutte le attività finanziarie e patrimoniali che detengono all'estero. Il secondo obbligo è quello del pagamento dell'IVAFE, ovvero l'imposta sul valore delle attività finanziarie estere. L'IVAFE è una sorta di imposta di bollo sulle attività finanziarie estere e si paga infatti con gli stessi importi dell'imposta di bollo sulle attività finanziarie italiane. In particolare, sui conti correnti si paga un IVAFE di 34 euro annui se la giacenza media del conto corrente è superiore a 5.000 euro. Se la giacenza è inferiore a 5.000 euro non si paga invece nulla. Per quanto riguarda le attività finanziarie diverse dai conti correnti, l'IVAFE non è fissa ma proporzionale e si paga per un importo pari al 2 per 1000 del valore dell'attività al 31 dicembre di ogni anno. Ma i conti correnti esteri vanno sempre dichiarati? I conti correnti possono non essere dichiarati se ricorrono contemporaneamente due condizioni. La prima è che non sia dovuto il pagamento dell'IVAFE, quindi che la giacenza media sia stata inferiore a 5.000 euro. Oltre a questo, deve sussistere anche un'altra condizione, a scelta fra due. La prima, quella più frequente, è che il conto corrente non deve aver mai superato nemmeno per un giorno un saldo massimo di 15.000 euro. In alternativa, i conti correnti, sempre se restano al di sotto della giacenza media di 5.000 euro, non devono essere dichiarati se si tratta di conti correnti posseduti da frontalieri, ovvero persone che quotidianamente si recano a lavorare all'estero, in un paese di frontiera, per quanto riguarda i conti correnti che hanno aperto nel paese in cui lavorano. Tra i conti da indicare nella dichiarazione dei redditi ci sono anche quelli in bitcoin o altre criptovalute. In questi casi non si paga l'ivafe, ma l'indicazione dei conti è comunque obbligatoria. Se ti interessa questo tema, ti lascio nella descrizione del video un link a un articolo del mio blog dove mi concentro proprio sul trattamento fiscale delle criptovalute. I conti correnti devono essere indicati in un quadro, che si chiama quadro RW, del modello redditi, ovvero l'ex modello unico. Se solitamente fai il 730 per dichiarare i coi redditi, puoi comunque continuare ad utilizzare il modello 730 e puoi presentare in via separata soltanto il quadro RW al solo fine del pagamento dell'ivafe e del monitoraggio fiscale. Il modello redditi deve essere trasmesso all'agenzia delle entrate entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce. Quindi il 30 novembre 2021 scadrà la trasmissione della dichiarazione dei redditi sui conti del 2020. Il pagamento dell'ivafe però scade prima, ovvero il 30 di giugno. Quindi se hai dei conti all'estero, ti consiglio di contattare un commercialista al massimo entro maggio per essere sicuro di avere tutti i conteggi in tempo e di non dover pagare nessuna sanzione. Se ci sono più persone cointestatari di uno stesso conto corrente, tutte dovranno indicare nella propria dichiarazione dei redditi la quota del conto corrente e pagare la propria quota di ivafe. Se invece ci sono persone che non sono intestatari del conto ma hanno la firma ad operare per delega sullo stesso conto, devono anch'esse indicare i conti correnti nella dichiarazione dei redditi ma in questo caso non pagano l'ivafe. Quindi se ad esempio per un conto corrente ci sono due persone cointestatarie e un terzo delegato, tutti e tre dovranno compilare il quadro rw doppio ma solo i due cointestatari pagheranno ciascuno 17 euro di ivafe. Oltre alla dichiarazione del conto corrente nel quadro rw doppio, devi anche verificare se sullo stesso conto corrente hai anche percepito dei redditi. Il caso più frequente è quello in cui il conto corrente produca degli interessi. In questo caso insieme al quadro rw doppio devi spedire un altro quadro, il quadro rm, nel quale andrai a indicare gli interessi che hai percepito e sui quali dovrai pagare un'imposta sostitutiva del 26%. Oltre agli interessi c'è anche un altro caso in cui è possibile che i tuoi conti correnti esteri abbiano prodotto dei redditi. Ed è il caso in cui tu abbia dei conti in valuta, ovvero in valuta diversa dall'euro. In questo caso devi andare a verificare se durante l'anno i tuoi conti in valuta estera, complessivamente, abbiano superato il controvalore di 51.646 euro per più di 7 giorni lavorativi consecutivi. Se questa condizione si verifica, i tuoi conti saranno considerati speculativi e quindi dovrai andare a tassare tutte le plusse e minusvalenze che avrai fatto ogni volta che si sarà verificata una cessione di valuta, ovvero banalmente un addebito su un qualunque tuo conto in valuta. Alla fine dell'anno dovrai andare a verificare se avrai realizzato più plus o più minusvalenze e se complessivamente ci sarà una plusvalenza, quindi avrai guadagnato dall'andamento dei tassi di cambio, allora questa plusvalenza dovrà essere tassata con un'imposta sostitutiva, anche in questo caso del 26%. In tutti i casi, quindi, sia che ci sia stata una plusvalenza, sia che ci sia stata una minusvalenza, devi andare ad indicare questi movimenti in un quadro della dichiarazione dei redditi, che è il quadro RT, che puoi trasmettere con le stesse modalità che abbiamo visto per il quadro RW e per il quadro RM. Se questo video ti è piaciuto, metti like e iscriviti al canale per non perderti i prossimi video. Nella descrizione ti lascio il link al mio blog e ai miei canali social, dove puoi trovare molti altri contenuti gratuiti. Ciao e a presto!